Raccontare la storia ai cittadini, ma in una tonalità diversa da quella delle aule accademiche e dei convegni. Il Festival Storia 2012, alla sua ottava edizione, unisce Torino e Napoli in un'iniziativa pubblica di grande valore culturale, che ha luogo nelle due città fino all'8 dicembre. La storia come esperienza per comprendere meglio la complessità del presente e per riconoscere in essi causali delle vicende umane. Il Mediterraneo è il tema di questa edizione, luogo di esplorazione e di incrocio fra le culture, un tempo spazio comune ed oggi soprattutto frontiera. Volontà di sapere, volontà di conoscere il passato, anche il passato più recente. Ogni volta il Festival ha un tema che viene declinato in maniera il più possibile facile, ma cercando di non perdere il fatto di rigore. Questo non è un convegno di specialisti, è un modo di portare la storia in piazza, di fare storia pubblica. In fondo al Mediterraneo giacciono ventimila cadaveri, per lo più di donne, bambini e anziani, che sono morti negli ultimi vent'anni nel tentativo di arrivare dalla sponda sud del Mediterraneo alla sponda nord. Questo è qualcosa che non possiamo più accettare. La storia insegna, ma non ha scolari, scrisse ironicamente Gramsci quasi un secolo fa. Nella sua vivace Lectio Magistralis, il professor Giuseppe Galasso dimostra che la conoscenza accurata dei fatti storici rende più chiari i fenomeni del nostro tempo. Comincerò dalla fondazione di Napoli cercando di capire che cosa allora significassero l'Europa da una parte il Mediterraneo dall'altra e Napoli fra l'uno e l'altra, delineando la funzione di Napoli che per lungo tempo è stata una funzione di mediatrice, trasmettitrice di culture e di esperienze civili fra l'una e l'altra realtà geografica entro le quali si trova e terminerò, come si dice, a Dio piacendo, con le particolarità e gli elementi che caratterizzano oggi l'originario rapporto fra Napoli, il Mediterraneo e l'Europa. Il Mediterraneo che per noi deve essere mare di pace, di inclusione, di tolleranza, di solidarietà e non mare di sangue come troppo spesso accade ancora oggi con gli immigrati, i profughi e i disperati che scappano dalla sete, dalla fame e dalle guerre.